Musica Presentiamo una novità per quanto riguarda la gamma di prodotti della famiglia Ursa Terra aumentiamo le prestazioni del prodotto grazie al lancio del Bionic Performance quindi un nuovo legante che tiene insieme le fibre a bassissime emissioni di formaldeide e elementi volatili soluzione che ci ha permesso di ottenere su tutta la gamma la certificazione del Deur Blau Engel quindi una certificazione abbastanza importante per quello che è l'utilizzo delle lani minerali in edilizia cercando di produrre un prodotto con alte prestazioni ed altissima sostenibilità per quanto riguarda l'ambiente e la qualità dell'aria interna degli edifici che abitiamo Musica In più presentiamo in anteprima assoluta anche il nostro prodotto a codicibilità termica Lambda 0027 Watt su metro Kelvin prodotto che è estremamente performante da punto di vista termico performance elevatissima da punto di vista della resistenza a compressione e dell'assorbimento d'acqua praticamente nullo Musica Fino a oggi essenzialmente ci si è sempre rivolti a un target di professionisti quindi la comunicazione è sempre stata di taglio essenzialmente tecnico per un B2B è sorta la necessità di comunicare in un modo diverso anche a un pubblico profondamente diverso che è quello del consumatore finale persone che non essendo adatte ai lavori non conoscono i prodotti e le soluzioni che possono portare alla risoluzione di problematiche quotidiane nel loro mondo abitativo il modo doveva essere trovato avvicinandoli con qualcosa di divertente con qualcosa che li potesse coinvolgere con qualcosa che potesse farli calare in questa realtà abbiamo fatto tre spot che stanno dandoci veramente un ottimo risultato un'ottima redemption in termini sia di ricezione, ricettività quindi comunque di risultati di leader aggiunti sia anche di percezione effettivamente il pubblico raccoglie nel divertimento un messaggio che è quello che poi noi volevamo effettivamente riuscire a dare sensibilizzarvi per avvicinarvi a un qualche cosa che per noi è il quotidiano ma per voi è il noto grazie guarda senza il tuo aiuto il mio pesce l'avrei sicuramente persico non so se... Ursa, isolamento, per un domani migliore nella mia tromba e questo è tutto là grazie 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 a tutti.